Buongiorno a tutti, ben trovati, grazie per essere qui, a tutti voi, anche al nostro assessore in particolare Patrizia Rossi che è sempre molto attenta a quello che la scuola propone. Siamo qui per presentare questo magnifico libro che dovete senz'altro leggere, chi ha letto sicuramente da un attacco la bellezza dell'esperienza. E' un'esperienza che ha visto in particolare l'integrazione tra le due tribune, la nostra giovane istituzione Giulia Bassini che ha dato veramente un contributo eccezionale, altrimenti con la dottoressa Anna Bassini sapeva quanto riguarda l'immagine. Quindi parola e immagine e la collaborazione e previsione del coordinatore professore Sascani con i nostri studenti che meravigliosamente hanno realizzato l'opera. Quindi la presentazione poi sarà in gelare in vivo di quello che è stato il nostro lavoro, biennale, perché i lavori hanno necessità nella scuola di un tempo sufficientemente lungo per poter avere anche un prodotto realizzato che sia di qualità. Grazie per essere qui. Grazie.